Ciao amici di Videoripetizioni, oggi parliamo dell'installazione passo passo del sistema operativo Linux Ubuntu 1504 in italiano, nome in codice VividVervet, di cui abbiamo una diapositiva qua, questo è il VividVervet, eccolo qua. Ok, quindi ce lo siamo scaricato, nella videoripetizione precedente ti ho fatto vedere dove e come, eccolo qua, mi sono preparato l'immagine ISO che pesa 1,123 GB, adesso decidiamo come installarcelo, ce lo possiamo installare o su macchina virtuale, quindi Oracle VirtualBox o VMware Machine Player, quindi macchina virtuale, virtualizziamolo, per chi non sa cos'è la virtualizzazione, Ti consiglio di andare qua, sul sito ufficiale videoripetizione.com e cliccare virtualizzazione e macchine virtuali, perché puoi andarti a vedere passo passo cosa significa i vantaggi della virtualizzazione, se scorri in basso, inizia da qua, guarda, dalla prima videoripetizione, eccola qua, impara la virtualizzazione con VMware Videoripetizione 01 Se invece non hai tempo di virtualizzarlo, preferisci proprio istanziarlo da zero su una macchina o su un computer portatile o fisso, è il caso che lo masterizzi o utilizzi una chiavetta USB con l'autorun. Attenzione, perché questo file da ISO da 1,100 GB, il più delle volte viene masterizzato in maniera sbagliata, leggo molti commenti sul canale YouTube o sul sito ufficiale dove mi dicono, sì, ok, l'ho masterizzato, non funziona un cavolo, perché lo devi masterizzare con l'autorun, ovvero con l'autoiseguibile, in modo che appena inserisci il DVD nella tua macchina, nel tuo computer, parte l'installazione in automatico e ti faccio vedere cosa significa. Bene, in questa videoripetizione ce la andiamo a installare in VMware Player, ovvero non in Oracle VirtualBox, oggi utilizziamo VMware, che è il nostro lettore di macchina virtuale. Ok, quindi che succedo? Come vedi qua ho la lista di tutte le macchine virtuali che mi sono creato per le videoripetizioni precedenti e anche per utilizzarle, l'ultimo è Linux Ubuntu 14.10. Adesso che cosa facciamo? Andiamo su Home e clicchiamo, clicchi, questo tasto qua, mettiamo a tutto schermo così si vede meglio. Create a new virtual machine, cioè creiamo una nuova macchina virtuale. Benissimo, che cosa facciamo? La creiamo da un disco, non un disco, scusami, da un'immagine ISO, perfetto. Mettiamo il path, il percorso dell'immagine ISO, che è sotto di, questo è il percorso della nostra macchina virtuale, questo è il file ISO a 64 bit appena scaricato, quindi possiamo cliccare, puoi cliccare una volta che hai scaricato il tuo file ISO, apri, facendo questo modo. Adesso è il caso di cliccare next, quindi andiamo avanti, mettiamo il nome della nostra macchina virtuale, la chiamiamo linux ubuntu 15.04, username, nel mio caso metto videoripetizioni, nel tuo caso scegli un nome del tuo computer, quindi Andrea, Francesco, Leonardo, videoripetizioni, metti la tua password e confermalo ancora, mi raccomando ricordate, altrimenti te lo installi e poi non ti ricordi come entrare, clicchiamo next. Questo è il nome invece della macchina virtuale, la possiamo chiamare, oltre che ubuntu 64 bit, la possiamo chiamare linux ubuntu 15.04 a 64 bit. Questo è il percorso dove verrà installato il sistema operativo e in questo caso non mi piace, perché preferisco tenere le cose in ordine. Ecco qua, la mettiamo all'interno della cartella dove già c'è il file ISO, quindi sotto di e il nome della cartella di linux ubuntu 15.04. Ti consiglio di non lasciare spazi nel nome della cartella, perché? Perché spesso webware è noioso, è anche ora col virtual box, quindi clicchiamo next, ok? Adesso devi decidere lo spazio per allocare sull'hard disk della tua macchina virtuale e vedi 20 giga perché la dimensione minima raccomandata per ubuntu 64 bit è 20 giga e quindi noi lo lasciamo a 20 giga, naturalmente lo può diminuire a tuo rischio o pericolo o aumentare, ma quello che ti consiglio è lasciare a 20 giga perché, essendo una macchina virtuale, te la puoi gestire come ti pare, te la canti e te la suoni, quindi che vuol dire? Che in futuro se hai bisogno di più di 20 giga te lo puoi aumentare tranquillamente a macchina virtuale spenta. E questa è la sonidità tecnica invece che ti ho fatto vedere anche nelle video ripetizioni precedenti sulla virtualizzazione, ovvero che cosa facciamo? Ci creiamo un disco virtuale intero di 20 giga che è più veloce oppure un disco virtuale splittato, split, cioè suddiviso in parti multipli, in file multipli, che è leggermente più lento? A occhio e croce questa domanda sembra scontata, mi crea un disco unico più veloce, però in questo caso, cioè nella prima opzione, te vai a occupare subito 20 giga del tuo hard disk, mentre in quest'altro caso, diciamo, è un incremento dello spazio disco, ovvero adesso magari ci occupa 2 giga, poi mano a mano che lo utilizziamo crea un altro disco multiplo, un'altra parte del disco di altri 2 giga e quindi per risparmiare spazio, questo dipende da come vuoi utilizzare la macchina virtuale, puoi scegliere una delle due opzioni. Nel mio caso, anche perché mi è rimasto poco spazio, utilizzo la tecnica del disco virtuale suddiviso in multiple parti, in più parti e quindi clicchiamo next. Qui puoi personalizzare i tuoi pezzi di ferro, il tuo hardware e infatti, come vedi, la memoria mettiamo almeno 2 giga, ma volendo, senza che lo scrivi, lo puoi anche alzare con questa, come vedi, rotellina. Naturalmente non è che mettiamo 64 giga, perché? Perché in questo caso il portatile dove sto installando Linux Ubuntu 15.04 ha 4 giga di RAM fisica, quindi è inutile che metti 64 giga di RAM, non ci andrà mai, è suggerito non utilizzare più della metà della RAM fisica che hai sulla macchina fisica, non sulla macchina virtuale, quindi fai i tuoi conti, nel mio caso ha logo 2 giga. Il floppy, come sempre, lo possiamo anche togliere cliccando remove, perché ormai è storico, la stampante ci potrebbe far comodo, non si sa mai, e i processori, dato che ho un quad core, qui possiamo mettere anche un dual core in maniera automatica il motore di virtualizzazione. Poi, naturalmente, se è il primo approccio con le macchine virtuali, puoi anche giocare e fare varie prove, vari test, spengendo e riaccendendo la tua macchina virtuale, questo è fantastico. Chiudiamo e a questo punto clicchiamo finish. E quindi andiamo a vedere l'installazione passo passo di Linux Ubuntu 15.04, mettiamo a tutto schermo e vediamo cosa succede, soprattutto se funziona. Bene, amici di video ripetizioni, questa è la prima schermata che vedrai non appena inserito il DVD di Linux Ubuntu 15.04 all'interno del tuo computer, portate lo fisso che sia. Oltre al logo di Ubuntu e un piccolo caricamento di un paio di minuti che ti ho tagliato per farti risparmiare tempo, questo è quello che ti vedrai. Welcome to Ubuntu, benvenuto a Ubuntu. Naturalmente, quello che ti dicevo prima è che se decidi di installarti Linux Ubuntu 15.04 da DVD, mi raccomando, fallo in autorun. Che vuol dire autorun? È una piccola opzione che ti metti sul tuo software di masterizzazione che fa sì che quando inserisci il file ISO masterizzato nel DVD, lo inserisci all'interno del tuo computer, questo parte. Ovvero non te lo apre con delle cartelle e dei file di cui a volte neanche capisci il significato. È quello che mi scrivono la maggior parte degli amici sia sul canale YouTube che sul forum di video ripetizioni. Quindi cerca l'opzione di autorun o autoeseguibile in italiano e masterizzalo in quel modo. Altrimenti se stai utilizzando la macchina virtuale non ti preoccupare perché lo fai in automatico dal file ISO. Bene, vediamo, mentre Linux Ubuntu sta copiando i vari file dal DVD o dal file ISO alla tua macchina virtuale o dal DVD alla tua macchina fisica, ecco cosa sta facendo. Non diamogli fastidio, vediamo una carrellata della panoramica, delle novità di Linux Ubuntu 15.04. Oh, per farti far prima andiamo avanti, eh, non ti preoccupare. Ecco qua, find even more software, ovvero trova anche più software. Cioè, di addio, te lo traduco nel mio inglese maccheronico, che sicuramente è peggiore del tuo, però cerchiamo di capirci. Di addio alle ricerche sul web for new software, cioè per il nuovo software. Con Ubuntu Software Center puoi trovare e installare nuove applicazioni with ease, cioè con facilità. Just type, non giusto il tipo, ma è sufficiente digitare quello che stai cercando per esplorare categorie come scienze, educazione e giochi, alongside helpful reviews, cioè, e troverai anche, non riviste, ma recensioni molto di aiuto. E infatti, a cosa si riferisce? A queste stelle, vedi? Da 1 a 5 stelle, ovvero, per ogni gioco, per ogni software, per ogni installativo applicativo, naturalmente, rigorosamente free, gratuito, open source, quindi a codice aperto, per i più sbanettoni, questo è importante, troverai anche i voti, le recensioni degli utenti da tutto il mondo, non solo italiani. Naturalmente, se hai la versione di linux.uvvidverved1504 in italiano, il software Ubuntu Software Center dà maggior risalto alle recensioni di italiani, come noi, come te, come me, altrimenti a quelle in inglese, e quindi è uno specchio sul mondo. Intanto, come vedi qua sotto, per non farti perdere tempo, ti faccio anche vedere quello che vedrai, non appena, durante l'installazione, ecco cosa sta succedendo, adesso sta facendo lo scanning del CD-ROM, cioè dell'installativo, e sta andando avanti. E noi intanto vediamoci questa carrellata, quindi, analogo all'Apple Store, o al Google Play Store, qui hai l'Ubuntu Software Center, ovvero un unico posto dove cercare tutto il software, tutti gli installativi, tutti i giochi, con i voti. Quindi, andiamo avanti, Take Your Music With You, cioè portati la tua musica con te, Ritmox Music Player, che non è niente di più rispetto alla versione precedente di Linux Ubuntu 14.10, andremo a vedere, non appena installato, insieme, la versione che monta, se c'è una versione aggiornata, con delle funzionalità in più. Io non ho mai considerato tanto questo Ritmox Music Player, magari perché ascolto la musica con YouTube, oppure, ecco, l'ascolto con Spotify, però un mio amico che è fissato con Ritmox Music Player mi ha detto che è molto valido, perché puoi memorizzarti le stazioni, i canali radio di tuo interesse, sia stranieri che italiani, puoi memorizzarti, aggiornarti i podcast, quindi è interessante, e puoi crearti delle playlist di musica, di mp3 o di musica su internet molto valide, e quindi andrebbe preso in considerazione. Te lo consiglio e me lo consiglio anche a me stesso, mi prometto di almeno utilizzarlo, provare a vedere come funziona. Bene, intanto come vedi sta recuperando 57 file, stiamo al ventesimo di 57 durante l'installazione, e noi andiamo avanti con la carrellata, la panoramica, delle funzionalità di Ubuntu 1504, che ti ricordo è uscito da pochissimo, anzi, è appena uscito, l'ho scaricato stanotte. Bene, have fun with your photos, cioè divertiti con le tue fotografie, c'è sempre Shotwell Photo Manager, andremo a vedere la versione, ovvero è il gestore di foto, come vedi non è solo un semplice gestore e visualizzatore, ma è anche un editor nel suo piccolo, cioè ti puoi andare a modificare la saturazione, le ombre, l'ombreggiatura, la tinta, delle tue immagini, delle tue fotografie, e poi c'è sempre il software che supporta Shotwell Photo Manager, che è Gimp e PTV Video Editor. Gimp, alcuni mi hanno criticato in maniera costruttiva, dice non lo puoi paragonare a Photoshop, è vero, perché? Perché Gimp è open source, è gratuito, e Photoshop no, è a pagamento. Poi la maggior parte razzoliamo male, cioè lo cracchiamo, giusto? Però tanti amanti di Photoshop mi hanno criticato dicendo che Gimp non è all'attezza, tanti amanti di Linux e quindi dell'open source mi dicono che Photoshop è uno schifo, io ti consiglio di provare Gimp e vedere, con calma naturalmente, se rispecchia le tue necessità, ovvero soddisfa le tue necessità, quindi è il caso di darci un'occhiata. Ho intanto, qua sotto, non so se ci hai fatto caso, ma Linux Ubuntu 15.04 VividBervet stava rannando, stava mandando i post installation trigger, ciò significa che l'installazione sta oltre la metà, per esperienza ti dico. Andiamo avanti intanto. Che cosa ci dice? Che è il software incluso per navigare il web e internet Firefox come non potrebbe essere Firefox, e andremo a vedere insieme che versione monta di Firefox, se è una nuova versione. Il software supportato è Flash, che ultimamente è un po' maltrattato da tutti, un po' evitato come la peste, anche Chrome, anche YouTube non lo supportano più, c'è chi dice su vari forum per problemi alla sicurezza, e comunque Linux Ubuntu supporta Flash, questa era la domanda del secolo qualche tempo fa, lo supporta, e supporta anche Chromium, che è la branca, il branch open source del browser Chrome, più conosciuto da tutti, e che ora è arrivata la versione mi pare 43-44. Andremo a vedere che versione monta Chromium, andremo a vedere pure come installarcelo. Quindi, se ancora non l'hai fatto, che cavolo aspetti? Registrati, iscriviti a Videoripetizioni, sia al canale YouTube che al sito internet videoripetizioni.com, la newsletter, così rischi, anzi non rischi di perderti le ultime novità. Andiamo avanti. Andiamo. Avanti con Everything you need for the office. Qualsiasi cosa hai bisogno per l'ufficio è qua. Sembra scontato, però ecco, mi iscrivono in tanti, sia sulla pagina Facebook, che spesso non prendo molto in considerazione, o sul canale YouTube, o sul forum che sto provando a far decollare. Mi scriveva, ad esempio, Pasquale, qualche giorno fa, che ha un negozio di... è un parrucchiere, e quindi non è che scrivono solo le grandi aziende, ma anche persone normali, persone rispettabilissime, e mi diceva, voglio installare Ubuntu a negozio, perché non voglio pagare più la licenza di Windows. E come vedi, per il 98-97, secondo me, il percento degli utenti, Linux è più che ottimo, perché, come vedi, anche col pacchetto Office, in questo caso, qui si chiama LibreOffice, c'è l'analogo di Word, che si chiama Writer, c'è l'analogo di Excel, che si chiama Calc, e c'è l'analogo di PowerPoint, che si chiama Impress, quindi puoi scrivere documenti, puoi elaborare fogli di calcolo, e puoi fare delle presentazioni a negozio a PowerPoint, e quindi è da prendere in considerazione. Andiamo avanti, accesso per chiunque, per ognuno, l'apparence, che non è l'apparenza, ma è l'aspetto del tuo desktop, del tuo background, quindi puoi customizzarti le opzioni, quindi personalizzarti le opzioni del background, e del language support, ovvero il supporto linguistico, cioè, che significa? Significa che qua, come vedi, adesso lo stiamo stuzzicando in un momento critico, ma è supportato solo l'inglese, in realtà andremo ad installarci, ti farò vedere nella prossima video ripetizione come installarci l'italiano. Intanto, come vedi, l'installazione sta andando a buon fine, siamo quasi alla fine dell'installazione di Linux Ubuntu 15.04 Vivid Verbet, sta rimuovendo, sta eliminando i pacchetti obsoleti, ovvero i pacchetti magari già installati o già troppo vecchi, e quindi sta sistemando l'installazione, e come vedi sta andando tutto a buon fine. Any question? Ma che domanda? Col simbolo della scimmia, del Vivid Verbet. Oltre che check, controllare su askubuntu.com o ubuntu.com slash support, puoi anche andare su videoripetizioni.com slash forum, che sto facendo decollare, sto spingendo molto per questo forum, è una cosa a cui tengo in particolare, perché? Perché mi rendo conto che serve anche un contenitore di tutte le domande e le risposte, che sia io creo, cioè rispondo, ma anche i vari utenti fra di loro, molto preparati, molto validi, si rispondono e si aiutano. L'unica fregatura è che un po' stanno su YouTube, un po' sulla pagina ufficiale Facebook, un po' sulla mia email di videoripetizioni, e quindi rimangono lì, rimangono all'utilizzo di poche persone. Quindi sto mandando questo forum, dove lo puoi trovare gratuitamente su videoripetizioni.com slash forum, magari non col nome e cognome, ti puoi scrivere anche con un nickname, è una cosa magari vecchia, tutti utilizzano Facebook, però spingo per questo forum perché voglio creare, sto creando e creerò un unico posto dove tenere la conoscenza, domande e risposte, non solo su Ubuntu, ma anche su altre tecnologie, come ad esempio la programmazione Java, come ad esempio anche Windows, perché no, come ad esempio Skype Translator, come ad esempio tutte le ultime novità. E questa è una cosa interessante che ti invito a fare, se hai qualche domanda, sicuramente visita il forum ufficiale ubuntu.com slash support, dove purtroppo la maggior parte delle cose è in inglese, ma visita anche videoripetizioni.com slash forum. Bene, come vedi abbiamo appena terminato l'installazione di Linux.1504, tempismo perfetto, iscriviti al forum, bam, installazione completata. C'è qualche errore, non ti preoccupare, qualche warning, sta andando avanti tutto da solo, io non sto facendo niente e questo è quello che vedrai, non ti preoccupare se c'è qualche cosa di fallito, magari lo andiamo a sistemare dopo. Quello che conta è il risultato finale che ti sto per far vedere e quindi non cadrai dalle nuvole, saprai cosa ti aspetta durante l'installazione. Niente paura, non avere timore. Ok, ci sta chiedendo la login, ancora no, adesso ci dovrebbe reindirizzare, non ti spaventare per questa schermata a lutto, per questa schermata nera. Ora, ormai è una delle tante installazioni che faccio. Eccolo qua, Linux Ubuntu 1504, questo è il nome che ho dato alla macchina. Qui puoi mettere, rullo di tamburi di sottofondo, sentito molto male, qui puoi mettere la password e clicca entra. Un'iconcina qua sotto, Ubuntu 1504, ci dà conforto, vuol dire che l'installazione sembra essere andata a buon fine. Vediamo cosa vediamo sulla schermata di benvenuto, di Vivid Webbed. Ecco qua, Linux Ubuntu 1504. Come vedi, la risoluzione dello schermo, perlomeno sul mio portatile, non è ottimale e quindi la prima cosa che andremo a farci è andarci a sistemare la risoluzione dello schermo. Andiamo a vedere comunque le... About this computer, dov'è? Non ci prendo. Andiamo a vedere la versione, se è quella corretta, quindi se l'installazione è andata tutta a buon fine. Perfetto, eccolo qua, Ubuntu 1504 Vivid Webbed. Perfetto, quindi l'installazione è andata tutta a buon fine. Questo è Linux Ubuntu, quello che vedrai, quindi come vedi non è niente di difficilissimo, anzi è stata veramente una capolata. Quindi ti ricordo, se vai con macchina virtuale, segui tutti i passaggi per l'installazione su macchina virtuale, se invece lo installi da DVD, quello che ti consiglio è di masterizzarlo come autorun. Come vedi, questa è la versione definitiva, non è un'alpha o una beta 1 o 2, è la versione definitiva di Linux Ubuntu 1504. Bene, anche se in versione ridotta, con lo schermo piccolo, ti do appuntamento su videoripetizioni.com, sul canale YouTube ufficiale, sempre videoripetizioni ci trovi, e sul portale web videoripetizioni.com. Il canale YouTube lo trovi qua, guarda, qui c'è Twitter, Google+, Facebook, un po' dispersivo, nella maggior parte delle volte ci trovi sia su YouTube, sul canale ufficiale, che sul sito internet ufficiale, dove qua a destra puoi trovare le ultime novità. E adesso andremo a mettere, qui c'è la prova di Skype Translator, se ti va di darci un'occhiata, ti puoi iscrivere, eccolo qua, solo la prima volta che entri, su videoripetizioni, alla newsletter ufficiale, che con solo due mail al mese, in genere è una, due al massimo, siamo quasi in 3.000 iscritti, qua devo aggiornare il numero, qui scrivi il tuo nome, qui la tua migliore email, e poi vai in basso e clicchi qua, cioè iscriviti. A questo punto fai parte della community videoripetizioni e non rischi di perderti le ultime novità. Ti stavo per dire che rimpiazzerò l'immagine di Utopic Unicorn, che è Linux.14.10, con questa di Vivid Verbet, cioè di Linux.1504. Ti do appuntamento nelle prossime videoripetizioni per andarci a vedere le ultimissime novità di Linux.1504 e innanzitutto sistemarci questo schermo. Quindi nella versione ridotta, piccola, di videoripetizioni.com ti saluto e ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato. Ti mando un abbraccione. Ciao!